mister ben rivisto innanzitutto non so se mi senti sì ecco quando l'altro ieri insomma ti avevo chiesto se in queste partite conta anche un po il raziocinio che ci si mette nel capire non tanto la partita in sé ma il momento in cui cade la partita probabilmente è stato anche è stato il light motive di Olbia Teramo un primo tempo un po' sonnolento poi nella ripresa ci ha provato un po' il Teramo un po' l'Olbia e poi diciamo che sostanzialmente è un pareggio funzionale al percorso di queste due squadre sì hai analizzato tutto bene che aggiungere posso solamente confermare ciò chiedete nel senso era una partita che in chiave classifica era estremamente importante come ho detto ai vostri colleghi qua ad Olbia penso che si toccava con mano si vinceva che c'era più la paura di perdere piuttosto che la volentà di andare a fare per magari rischiare di vincere non era un campo assolutamente facile perché la palla scorreva poco non rimbalzava benissimo le dimensioni erano strette rispetto a quelle siamo solito avere al Bonolis e devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi ad adattarsi abbiamo fatto una partita tra virgolette più sporca rispetto a quelle solite però ecco penso che per quello che si è visto sul campo sia stato un risultato giusto perché penso ho contato per lo meno due occasioni un po' per parte il primo tempo come hai detto te insomma a ritmi anche molto bassi complici anche forse anche il primo caldo che c'era quindi non era non era non era facile penso che il risultato per quello che abbiamo espresso sia stato giusto mister sicuramente salvezza meno lontana o più vicina insomma vedete voi come la intendete ma alla luce della prestazione odierna fa notizia il fatto che il teramo non subisca gol da tre partite e mezza e questa è una novità che va nettamente in controtendenza con l'intero campionato Walter aspetta un attimino che credo che abbiamo perso il mister magari riformuli la domanda a breve eccolo lo recuperiamo ci siamo ci scusa Walter abbiamo perso figurati figurati dicevo eh la salvezza è meno lontana o più vicina insomma bisogna vedere da quale ottica la guardiamo ma la notizia è che non subiamo gol da oltre tre partite oramai e forse questo è il dato più rilevante del pareggio meritato ad Olbia non so se tu condividi sì sì condivido condivido stiamo continuando a tenere grande grande solidità perché oggi abbiamo rischiato un paio di situazioni dopo su una c'è stato un'indecisione tra Codromaz che secondo me ha fatto una partita straordinaria e con Perucchini e dove è nato forse l'unica occasione un po' più ghiotta del dell'Olbia su una palla lanciata dentro l'area però dal punto di vista della solidità difensiva abbiamo concesso poco e per arrivare all'obiettivo è chiaro che è importante per quanto mi riguarda mi piacerebbe riuscire anche a capitalizzare un po' meglio le situazioni che stiamo costruendo è vero che oggi era difficile perché abbiamo giocato una partita più sporca ma perché oggi dovevamo far così perché la partita richiedeva richiedeva questo e quindi andiamo avanti è chiaro che è un punto che ci avvicina a quello che è il nostro obiettivo Ciao mister, parlando appunto di occasioni ti viene in mente quella di De Grazia l'ultima praticamente della partita gli è capitato il pallone col mancino magari doveva andare di destro con cui poi ha segnato tra l'altro il primo gol con la maglia del termo quindi lì c'è un po' di rammarico Sì ma anche nel contropiede quando siamo ripartiti con D'Andrea che c'era l'inserimento di Forgione saremmo andati davanti al portiere e siamo mancati proprio nell'ultimo passaggio però è vero che anche D'Andrea non stava benissimo per il colpo che aveva ricevuto nella partita precedente insomma ha giocato con cinque punti sulla tibia e si è speso tanto Peccato perché sia Bernardotto che D'Andrea non sono arrivati a questa partita al top della condizione però purtroppo sono stati traumi che abbiamo che dobbiamo far fronte però è chiaro che l'occasione di De Grazia era grande potevamo far gol ma come del resto poteva far gol Olbia nell'occasione precedente Sì buonasera mister intanto buonasera intanto da premettere che finalmente il Teramo è riuscito a trovare la continuità di risultati e di prestazioni e soprattutto la solidità difensiva un punto che avvicina l'obiettivo salvezza ma quanto è mancato oggi quanto è mancata l'assenza di Bernardotto che prima fuori poi dentro poi fuori purtroppo non era al cento per cento della condizione quanto è mancato al Teramo questo giocatore che si stava esprimendo molto bene in queste ultime gare No ma Gabriele Bernardotto è chiaro che per il lavoro che svolge per la squadra cioè è un centro avanti che magari concederà anche qualcosa in termini di gol perché è chiaro che è lì il punto dove deve migliorare però fa giocare bene le squadre, ha capacità di pressing, ha una capacità di allungare le squadre avversarie perché lo temono molto nella profondità purtroppo si è allenato praticamente mai questa settimana ha un problema al piede per un risulto gli ho chiesto un sacrificio di se se la sentiva di entrare ha giocato con un antidolorifico però una volta finita insomma l'effetto mi ha chiesto il cambio perché non aveva grande dolore nel spingere quando spingeva e quindi non faceva più detto questo ripeto che anche D'Andrea secondo me ha svolto ha fatto secondo me un buon primo tempo dei tre davanti sicuramente quello che ha fatto meglio quest'oggi e anche lui si è dovuto sacrificare moltissimo e ha giocato con cinque punti di sudura sulla tibia che insomma lo hanno un po' destabilizzato anche nella sua performance però insomma c'è poco da dire ora dobbiamo stringere i denti ormai siamo nel rush finale, nella volata siamo tutti sui pedali mancano quattro partite ma sono praticamente venti giorni al termine del campionato e dobbiamo stringere i denti tutti quanti a proposito di prossimo futuro visto che ne avevamo parlato anche venerdì ne avevamo parlato anche qualche giocatore ecco con le due gare interne che arrivano adesso i probabilisti punti sarebbero 45 io adesso non voglio arrivare a tanto però diciamo che il Teramo ha il match ball tra le mura amiche possiamo definirlo così una specie di ma ora dobbiamo essere bravi in queste due partite con Carrerese e Ponte d'Era a sfruttare il fattore campo e a giocarlo tutto insieme intanto visto la domanda accolgo l'occasione di ringraziare quei ragazzi che da stamani sotto l'albergo che ci sostengono e che ci hanno fatto sentire il loro calore ma insomma ormai non ho più parole per i ragazzi della curva sono incomiabili e veramente sono un valore assoluto perché anche oggi insomma si sono sobbarcati in viaggio non di poco conto e penso che insieme a loro possiamo raggiungere l'obiettivo in casa ce lo auguriamo però ora veramente serve grande unità di intenti e giocare due finalissime al Bonolis mi starei anticipato quella che sarebbe stata la mia domanda perché io volevo soffermarmi sui tifosi dell'Olbia presenti a Teramo zero e sui 50 minimo tifosi del Teramo presenti ad Olbia ma non tanto per fare retorica perché noi continuando a dire le cose che loro meritano facciamo un po' retorica ma per svegliare le coscienze di questa città di fronte ad una situazione che comunque la società dovrà affrontare e risolvere nel prossimo futuro ecco io ripartirei da questi ragazzi che valgono senza nulla togliere ai meriti tuoi e della tua squadra più di tutti quanti noi messi assieme ed è il vero valore aggiunto di questa città condivido tutto perché è un amore profondo che nutrono per la squadra della propria città per la maglia e per la maglia e ripeto ma l'hai detto bene te insomma ormai l'ho detto talmente tante volte che rischio veramente di fare retorico però hanno proprio cultura perché ti incitano sempre a prescindere dalle cose belle alle cose brutte alle prestazioni negative fino al 95esimo ti sono vicini cioè giocano la partita insieme a noi e questo è sicuramente un valore soprattutto c'è grande cultura del tifo ma io nella mia futura carriera dovunque sia sicuramente non è difficile dimenticarli questi tifosi qua perché la curva est è eccezionale da questo punto di vista nella mia futura carriera dovunque sia sarà un po' di addio anticipato non devo cambiare domanda però adesso non c'entra niente per dire non c'entra niente il mio futuro ci mancherebbe io non sto assolutamente pensando a ciò che sarà il mio futuro l'ho detto perché capiterà di cambiare anche squadra però ho conosciuto e conosco dei tifosi che sono inconiabili e eccezionali e non è facile trovarli sono una rarità ti volevo chiedere non so se voi dal campo l'avete vistito un po' come noi cioè al vostro tripice fischio si giocava ancora a fermo con la fermana che stava vincendo 2-1 sul Cesena quindi il vantaggio sulla zona play-out era di due punti poi nel recupero fortunatamente per il termo il Cesena ha pareggiato quindi la valutazione di questo punto di Olbia è cambiata da un minuto all'altro sì è chiaro che appena abbiamo finito la partita abbiamo subito guardato i risultati degli altri il gol di Caturano è chiaro che ti fa vedere il punto ad Olbia come un punto estremamente positivo perché è passata un'altra partita in una trasferta molto difficile e complicata per mille motivi è rimasto intatto il vantaggio sul play-out quindi sono d'accordo con te se il Teramo oggi non ha subito reti merito anche certo della difesa ma anche di un centrocampo che ha protetto bene la difesa con gli esterni Mordini e Lombardo e sempre Arrigoni e Fiorani insomma anche questo da sottolineare vero? Sì sì ma noi come spesso accade e come spesso vi ho risposto cioè noi cerchiamo di pensarla un po' tutti insieme sia la fase offensiva che difensiva è chiaro che chiedo anche tanto come lavoro di pressione e pressing anche agli attaccanti quando riusciamo a farlo tutti insieme riusciamo a mantenere le distanze vicine a coprire la palla è chiaro che diventi diventi molto più solido e concedi molto meno tiri rispetto a quando sei slegato o pensi di giocare uno alla volta il calcio è uno sport di squadra e come tale devi affrontare le situazioni di gioco quindi insomma io non scindo mai i reparti ma cerco sempre di vederli insieme anche quando attacchiamo ok grazie poi vi giro anche il video posso solo sapere di Bernardotto che ha un problema al collo del piede che ha subito un colpo e se lo è praticamente trascinato per tutta la settimana gli ha impedito di allenarsi ha giocato con l'anticolorifico alla fine del primo tempo e poi mi ha chiesto il cane grazie buon rientro grazie a voi buona sera ciao ragazzi siamo tornati in modalità pandemica no 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 puoi stare qua allora